Sei un agente di assicurazione ma le cose non funzionano come vorresti? Prima da intermediario e da subagente era tutto più semplice. Prendevi la valigetta e andavi dai clienti e questo bastava per portare a caso un discreto risultato economico. Il problema è che per un agente questo non basta più. Hai l'ufficio da mantenere, i sinistri da gestire, i collaboratori da far crescere, i dipendenti da pagare. Insomma, un sacco di cose per cui non ti senti preparato. Beh, ho due buone notizie per te. La prima è che non sei solo a trovarsi in questa situazione. Da anni aiuto gli agenti in difficoltà a far crescere il proprio business su basi più solide. La seconda è che proprio per questo motivo ho accumulato un'esperienza ed una competenza che possono aiutarti ad uscire da questa impasse. Seguimi La psicologia ci insegna che è più facile ripetere sempre gli stessi comportamenti piuttosto che sperimentarne di nuovi. È la naturale tendenza a rimanere nella propria zona di comfort. Considera però che per un agente questo può essere deleterio. È chiaro che come produttore hai dimostrato di essere bravo, altrimenti non saresti arrivato dove sei oggi. Ma non è detto che questa competenza ti farà crescere e farà crescere il tuo team in futuro. Negli anni ho individuato tre limiti fondamentali che possono bloccare chi dalla produzione passa ad un ruolo manageriale o imprenditoriale. Il primo è la mancanza di una visione strategica, che si manifesta con la tendenza a rimanere ancora invischiato nei problemi quotidiani, quelli che affrontavi prima di diventare un capo. Il vero leader conosce tutti questi problemi perché li ha affrontati in passato, ma ne fa tesoro per avere una visione di lungo termine, una visione strategica indispensabile per far crescere la propria attività. Il secondo è la difficoltà delle gare. Essendo un professionista abituato a fare e a fare in fretta, pensi tuttora che sia più facile agire personalmente che sviluppare i collaboratori affinché siano in grado di agire autonomamente. Così però rimani bloccato in un circolo vizioso. Ti lamenti perché hai troppe cose da fare, ma non fai nulla per cambiare le cose. Il terzo, e più importante di tutti, è che non ti fermi mai per affilare la lama. Un po' come un boscaiolo che, preso dalla foga di abbattere più alberi possibili, non si ferma per affilare la propria accetta. Cosa che tra l'altro gli permetterebbe di lavorare meglio e con minore fatica. Come lui tu non ti fermi per sviluppare le tue competenze da leader, perché c'è sempre qualcosa più importante da fare. Beh, se pensi che a questo punto la misura sia colma e sia arrivato il momento di cambiare le cose, scrivimi in privato o commenta qui sotto e ti dirò come.